15 milioni di euro è la cifra che la Juventus ha incassato da Riccardo Orsolini ceduto a titolo definitivo al Bologna. Se ne stavo già parlando da parecchio tempo, in realtà avevo fatto già un video qualche tempo fa, avevo detto ragazzi guardate che Orsolini sta facendo un grande finale di stagione, potrebbe essere riscattato dal Bologna, ve l'avevo anticipato circa un mesetto fa, e vi avevo anche detto alla Juventus in realtà non potrebbe farglielo riscattare, avrebbe potuto prenderlo lui completamente, quindi riprenderlo e rimetterlo sul mercato a disposizione di altre società. In realtà hanno agito in maniera diversa, avevano un gentleman's agreement, quindi un accordo fra gentiluomini, fra Bologna e Juventus, nel caso in cui il Bologna avesse voluto riscattare appunto Orsolini, o meglio più che riscattare, avrebbe potuto acquistarlo a titolo definitivo, avrebbe potuto tranquillamente acquistarlo a titolo definitivo per gli accordi. Gli accordi dicevano 15 milioni di euro. Questi 15 milioni di euro però, pur essendo derivati da una cessione a titolo definitivo, lasciano uno spiraglio all'interno dell'affare. Vi spiego in breve, questo sarà un video molto più breve dei precedenti, semplicemente perché non c'è molto da dire e cercheremo di analizzare un pochino la situazione. Orsolini è un talento in cui la Juventus ha sempre creduto, fin dai tempi in cui Orsolini giocava appunto nelle divisioni minori, nelle leghe minori. Quando la Juventus ha preso Orsolini e l'ha ceduto al Bologna, l'ha fatto per permettergli di avere un minutaggio decente, perché se Orsolini fosse rimasto da Juventus, chi vedeva il campo, certamente non lui, con Quadrato, Douglas Costa, Bernardeschi, è normale che gli spiragli di rivederlo in campo si attenuavano e si chiudevano, diventavano sempre più piatti, sempre più sottili, fino a richiudersi sempre. Ha fatto una buona stagione, una prima parte di stagione devo dire non mi è piaciuto, nella seconda parte Orsolini invece a me è piaciuto molto. La Juventus si riserva il diritto di riacquistare il talento in questione qualora nei prossimi due, tre anni, Orsolini dovesse fare il salto di qualità. Quindi se tra due, tre stagioni vedremo che Orsolini avrà avuto un exploit, che Orsolini avrà avuto una crescita, che Orsolini avrà messo la quinta e sarà diventato uno dei talenti italiani più fruttuosi in questo mondo, allora la Juventus potrà riacquistare facendo valere un diritto che si chiama diritto di prelazione. Per chi non lo sapesse, io sono sicuro che voi lo sapete tutti ormai, però lo rispiego qualora non lo sapeste. Diritto di prelazione cosa vuol dire? Che se io cedo a te un giocatore e io ho un diritto di riacquisto, quindi io posso riacquistare quel giocatore, ho un diritto di prelazione quando nel momento in cui ho idea di acquistare quel giocatore e ci sono anche altre squadre che quel giocatore vorrebbero acquistarlo, tu quel giocatore lo devi dare a me necessariamente, perché io ho il diritto di prelazione. Prelazione vuol dire avere la possibilità di agire nei confronti di quel giocatore per primi senza essere disturbati. Quindi se l'indomani Orsolini farà una grande stagione e arriveranno Juve, Milan e Roma pronti per acquistare Orsolini, dice no, lo devi dare a me, no, lo devi dare a me, la Juventus prende una carta e dice questo è il diritto di prelazione, lo devi dare per forza a me, devi trattare con me. Quindi la Juve non è certamente fessa, la Juve non è certamente stupida, rimanete sintonizzati e non preoccupatevi. L'unica cosa, speriamo di riacquistare tanti talenti in modo da ripetere questo giochino qui perché ci frutta un bel po' di soldi.